buongiorno a tutti da Fina in Cucina e non solo stamattina ero in giro per commissioni e mi sono fermata in un Lidl che c'era lì vicino così per curiosare, non dovevo comprare niente, dovevo solo guardare che hanno già messo le cose del Natale però ovviamente quando uno entra al Lidl non è possibile non comprare nulla quindi vi faccio vedere la piccola spesa, diciamo piccola spesa che ho fatto allora cominciamo con le cose diciamo serie, cioè i Brezel a 0,39 l'1, ne ho presi due diciamo che Lidl forse è l'unico che li ha sempre poi ho comprato tre di queste pizzettine olive e salamino a 0,99 ciascuna e questo filone a 1,39 euro, il filone col sesamo dopodiché nel reparto diciamo delle conserve ho preso la Mutti a 1,75 il pacco da due latte che comunque è ancora un ottimo prezzo e quindi ho preso la scorta poi mio marito vuole provare questa polenta pronta anche se io ero contraria vabbè però per 0,49 l'abbiamo tirata su biscotti per la colazione, frollini a 1,15 euro senza olio di palma come anche senza olio di palma i petit sempre per la colazione o per fare tipo anche il salame di cioccolato a 1,09 euro poi vabbè si passa alle schifezze quindi 0,79 per le patatine bianche e 0,99 per le patatine al rosmarino ha voluto provare anche la Freeway Cola 0 il bottiglione da 2 litri a 0,55 io non so che gusto avrà questa cosa qui comunque vabbè e poi l'acqua a 0,19 a bottiglia per 6 bottiglie 1,14 questa è frizzante, la bottiglia è da litro credo, sì da litro il residuo della settimana americana a 1,29 a barattolo la salsa barbecue al miele e la salsa barbecue classica proviamo, la barbecue è una salsa che piace molto a una delle mie figlie quindi vediamo come come sono, comunque 1,29 è un buon prezzo la confezione è da 300 ml poi c'era in giro però non avevo visto il prezzo di questa mega confezione di carta igienica 20 pezzi, sono le confezioni XXL che Lidl mette fuori per diversi articoli a 4,92 però mi sembra che comunque il prezzo sia ottimo è una carta igienica con disegnate le pecorelle, è anche carina non so se si vede bene, comunque questo è il disegno che c'è in ogni foglietta e sono tre veli dopo ho comprato a 1,79 euro questi multisuperficie che sono comodi quando si ha fretta e comunque si vuole dare una pulita veloce magari ai sanitari o alle superfici lavabili in cucina da qualche parte, un vassoio, insomma un po' dappertutto cerotti a 0,99, sono 30 pezzi impermeabili non li ho mai provati però vedremo poi colgate 1,49 anti tartaro e whitening e poi ho preso questo bel sapone, cioè bello, bella la confezione mi piaceva anche la confezione devo dire al miele e latte miele per le mani e questa è la carta da forno già tagliata in pezzi, in fogli sono 30 fogli, la trovo un po' più comoda diciamo rispetto a quella che devi tagliare poi in un cestone c'era questo, non so, era figlio unico e l'ho preso a 1,99 euro ha questa cosa comoda, è un pretrattante per le macchie e ha questa spazzolina quindi si, vedete dal forellino esce il prodotto e poi voi lo potete distribuire con questa spazzolina di plastica incorporata poi ho preso per me il mascara volume a 2,49 allora, cosa dire, è iniziato il periodo del Natale quindi a Lidl già troviamo la qualunque infatti c'erano i cestoni pieni di palline, decorazioni non vi dico, una meraviglia, di tutto e di più e comunque solo l'inizio mio marito è riuscito a recuperare le caramelle gommose di Natale a 2,49 euro e 6 atti di caramelle ora le ha anche aperte, ve le faccio anche vedere magari ne assaggio anche una allora a forma di babbo vediamo se ne vedete a forma di albero a forma di stivale questo cos'è? ah la candela pensavo fosse un lombrico a forma di candela e poi vabbè a forma di corona ma questo sembra un biscotto la stella anche qui insomma un po' di tutto adesso mi assaggio un babbo Natale magro lo cannibalizzo il gusto è il classico gusto di caramella gommosa che sa tra la plastica e la ciliegia non si capisce bene poi ho comprato questa bella scatola a 2,99 c'erano diversi gusti c'erano anche i biscotti al cocco e sono dei biscottini a cannella e nocciola a me piace la cannella quindi volevo provarli e fra l'altro leggendo da dove arrivano insomma vengono fatti per la Lidl credo a Dublino vorrei vorrei che mettesse a fuoco ecco vedete Dublino presumo che arrivino appunto dall'Irlanda quindi sono quei dolcetti tipici che loro sanno fare benissimo e ripeto c'erano anche alla mandorla e anche al cocco e anche a qualcos'altro se non mi ricordo male poi come ogni anno puntata a Lidl per prendere i gingerbread che io adoro anche questi hanno il sentore di cannella arancia e poi hanno la glassatura da una parte al cioccolato e sono buonissimi questi sono fantastici 1,29 euro a confezione nel reparto insomma della pasticceria dolci c'erano diverse cose c'erano tante decorazioni per le torte un sacco di cose io comunque ho preso le noci a 2,99 euro perché ripeto 200 grammi di noci a questo prezzo mi sembra veramente un ottimo affare e comunque le uso molto sia come frutta secca da mangiare così e anche nelle preparazioni dei dolci soprattutto i dolci del periodo natalizio e anche per questo motivo ho comprato l'uvetta a 0,89 250 grammi di prodotto anche questa a me piace anche così ma mi fa venire mal di pancia però la uso nei dolci soprattutto nei strudel oppure spero penso di poter fare di nuovo il buccellato che è un dolce più tipico della mia regione e di cui ho carpito la ricetta a una mia zia che era la ricetta che faceva mia nonna quando era viva e comunque un dolce tradizionale con ricetta di famiglia spero di riuscire a farlo infine ho trovato questo set che adesso vedrò se farlo come pensierino di natale o tenermelo io ma presumo di più la seconda praticamente sono tre bottigliette una contiene olio extravergine d'oliva l'altra contiene olio extravergine d'oliva aromatizzato al peperoncino e infine l'aceto balsamico di Modena secondo me sono a parte come idea regalo ma penso che sia comodissimo perché le bottiglie sono sagomate in modo da essere contenute facilmente in questo attrezzino e per portare a tavola e non avere il bottiglione dell'olio uno si sceglie quello che vuole poi una volta terminato il contenuto si può comunque riempire perché ovviamente è vetro col tappino in legno e sughero veramente carino 8,99 sì 8,99 considerato che c'è anche l'olio secondo me è un prezzo ottimo devo dire ottimo poi cioè potevo io andare via senza la renna assolutamente no c'era questa vedete non guardate il casino che c'è dietro la renna e c'era anche una renna più piccola con annessa slitta ma mio marito mi ha praticamente proibito e poi c'era anche la stella non so se riesco a tornare giovedì e trovo ancora quell'altra più piccolina farò il papà la mamma e anche la slittina se riesco se no mi accontento e comunque questa è una una decorazione luminosa sia da interno che da esterno costa 17,99 questa è a luce calda ha anche la possibilità praticamente ha un timer ciclico a quanto ho capito ogni sei ore c'è una ripetizione automatica quindi si stacca e riattacca da solo e la luce è calda bianca calda vedete c'è il segno qui di sei ore adesso non so se è da programmare ok c'è anche le istruzioni ah vedete qui c'è il disegno dell'altra rennina la stella è quella che ho preso io e poi c'è anche i picchetti per ancorarlo e vedete questo questo qui è un timer che praticamente potete fare sia manuale sia in automatico dopodiché ho preso una confezione di luci sempre calde a led 12,99 sono praticamente 400 lampadine ne avevo già presa l'anno scorso in un altro supermercato per l'albero per l'albero però volevo farlo un po' più pieno quindi diciamo che in aggiunta metterò queste fra l'altro vedo adesso che anche queste credo abbiano l'interruttore si risparmio energetico interni ed esterni e presumo che abbiano il timer anche loro adesso vedremo queste cose tecniche che non so non l'ho ancora aperte magari questa dopo me la faccio anche vedere illuminata allora per questa spesa è tutto vi saluto e vi ringrazio di seguirmi sempre di essere sempre molto gentili con me ci vediamo alla prossima da fine in cucina e non solo ciao ciao